Quarantunesima edizione di Oss, siamo allo stand di Cimbali, azienda leader nella produzione di macchine professionali da caffè, dove si è appena conclusa una conferenza stampa per presentare un'importante novità in anteprima. Quale? Stiamo presentando la nuova piattaforma di macchine che è la Presidente, Presidente GTI e Presidente Termosifonica. Quali sono le caratteristiche di queste macchine e i vantaggi? La parola d'ordine è flessibilità. Per flessibilità si intende sia la parte di customizzazione estetica che la parte delle tecnologie. Infatti la macchina è completamente customizzabile in finiture estetiche dei materiali che sono sempre di acciaio, ma con finiture e trattamenti diversi, dal peltro allo champagne a brass, quindi ottone, rame. Abbiamo la possibilità di cambiare anche le tecnologie. La stessa macchina può avere sia la tecnologia a boiler indipendenti che la termosifonica regolabile indipendentemente per ogni gruppo e poi sia il touch che i tasti.